Lavoro con immagini provenienti da videocamere di sorveglianza private a cui riesco ad accedere tramite una serie di codici standard che i proprietari non cambiano, quindi diciamo che sono delle videocamere che rimangono in un certo senso non protette e accessibili a chiunque abbia connessi via internet e quello che faccio è guardare tantissime di queste videocamere e salvare le immagini che mi interessano per un film o per un altro, solitamente sono immagini in cui viene meno la funzione del dispositivo e quindi sono immagini in cui non si capisce più che cosa si deve sorvegliare o che cosa si sta guardando, diventano immagini quasi astratte e che mi interessano perché penso possono aprire da punti di visti diversi dal nostro perché è come immettersi nella visione di una macchina e parallelamente faccio una serie di attori tratti, sempre da videocamere di sorveglianza e quando, diciamo che dopo tanto tempo in cui guardavo queste immagini mi è venuta la voglia di fare esperienza fisica di questi luoghi perché per me erano state solamente immagini digitali fino a un certo punto e quindi quello che ho iniziato a fare è stato andare nei luoghi dove erano presenti alcune delle videocamere che trovavo e posare per qualche minuto davanti alla videocamera per poi andare a recuperare l'immagine in cui io ero presente con la mia figura e con il mio corpo. Grazie. 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 Grazie.